Siamo a Ballerano e praticamente io ho guanti, sciarpa, cappello, mamma sta così come si chiamano, devo vorrei che stanno dentro gli igloo, no, gli igloo, vabbè, e fa freddo, c'è anche il ghiaccio da qualche parte. Ma questo è, qui manco c'è una mano, è inquietantissimo, cioè, aiuto, quello è il ciccio bello, ciccio bello, aiuto, madonna mi ha paura, ma sono tutti finti, ma che brutto, quello è assassino, ma che faccio, ancora tu. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.